Improvvisende in sarda grammatica, è questo il titolo del laboratorio attivo di poesia improvvisata ospitato ieri sera negli spazi del Museo Tribù di Nuoro, un'iniziativa che ha chiamato a raccolta esperti, poeti e appassionati. Un evento curato da Suffizio Limbasarda della provincia di Nuoro è inserito a pieno titolo nel programma della Festa del Redentore, nell'ambito di quelle iniziative che mirano a riscoprire e salvaguardare tutti gli aspetti della cultura tradizionale sarda. Per la prima volta Nuoro inoltre ha ospitato una gara poetica in Campidanese. I relatori del convegno sono stati Andrea Mameli che ha incentrato il suo intervento sulla poesia campidanese e sui suoi meccanismi e Giuseppe Molino che ha parlato della gara poetica in Logudorese. I lavori sono stati coordinati da Paolo Picqueredu, direttore dell'ISRE. L'importanza di un laboratorio di poesia organizzato qui a Nuoro è vitale perché mette assieme più persone, più generazioni di persone e le avvicina a un mondo, quello della poesia estemporanea, che è quasi un mondo magico perché mette a contatto poeti, quindi poesia cantata e accompagnata dal coro a tenore e avvicina più generazioni, come possiamo vedere oggi a Nuoro, quindi giovani che magari non si sono mai avvicinati alla gara poetica e che hanno occasione non solo di ascoltare la gara poetica ma di avere la possibilità di appassionarsi e di intervenire proprio perché è stato organizzato un laboratorio attivo di poesia e quindi hanno modo di intervenire se vogliono e se hanno passione, se hanno vena poetica anche di improvvisare qualche verso, quindi questa è una genialatta di cui bisogna dare merito pieno al Comune, all'Ufficio della Lingua Sarda, ai poeti e a tutti gli organizzatori.